Buongiorno a tutti e ben collegati a questa breve presentazione sulla strategia di investimento. Io sono Paolo Galvani, sono presidente e uno dei due cofondatori di Manifarm, siamo giusti alle 18 quindi magari aspettiamo ancora un minuto, non più di uno e poi partiamo in modo di tenere tutto quanto all'interno dei 40-45 minuti che ci siamo proposti. Quindi ancora un minuto massimo e partiamo. Grazie. Grazie. Bene, io direi che possiamo partire. Due minuti in questi web e in video equivalgono circa mezz'ora in un meeting normale di persona per cui dobbiamo cercare di tenerle il più possibile limitate. Allora, buonasera a tutti. Come vi raccontavo e come vi ho brevemente accennato prima, abbiamo deciso di fare questo breve intervento, questa breve presentazione sulla strategia di investimento. Perché di fatto noi riteniamo che il modo in cui noi gestiamo e ci diamo delle regole pratiche e teoriche per la costruzione dei portafogli e gli investimenti sia fondamentale e sia fondamentale condividerlo anche con tutti quanti voi. Da una parte è una nostra guida, per noi evidentemente è un asset che abbiamo costruito nel tempo e che ci rappresenta e rappresenta il nostro modo di fare le cose. E dall'altra è di fatto anche una garanzia per gli investitori e per tutte le persone che ci danno fiducia perché all'interno della strategia ci poniamo dei limiti oggettivi a come operiamo e ci imponiamo soprattutto un metodo con il quale poi le scelte, i portafogli, le decisioni vengono prese nel corso del tempo. Ed è per quello che oggi abbiamo deciso di dedicare qualche minuto a raccontarvi come arriviamo a queste decisioni, quali sono le regole, come si arriva al profilo di investitore da un lato e dall'altro alla costruzione dei portafogli. Se passiamo velocemente, e poi passo molto in fretta la palla a Vincenzo e a Roberto, se passiamo velocissimamente a definire quelli che sono i concetti base della nostra filosofia, direi che forse la cosa più importante che mi piace condividere con voi è che noi abbiamo avuto l'opportunità e forse anche la fortuna di poter costruire una strategia di investimento partendo da zero. E quindi senza avere alcuna limitazione che potremmo immaginare dal punto di vista operativa tecnologica e forse ancora peggio commerciale, senza dover in qualche modo strizzare l'occhio a nessuno, ma di fatto utilizzando soltanto i nostri valori core, i nostri valori centrali per poter costruire qualcosa che fosse coerente con quello che ci eravamo proposti. E quindi di fatto un'idea di cercare di costruire una soluzione che fosse il più possibile efficace ed efficiente per il nostro cliente. E siamo partiti da una cosa abbastanza anche scontata se volete, cioè di fatto venendo da un'esperienza, la mia, quella di Giovanni e in generale del team che aveva lavorato per lungo tempo con gli investitori istituzionali, quindi le grandi banche, i grandi fondi, le grandi compagnie assicurative. Siamo partiti da lì e abbiamo detto ma perché non coniare, perché non cercare di mettere a terra quelle che sono le strategie dei grandi investitori anche nel mondo dell'investitore individuale, nel mondo in cui appunto, nel nostro mondo e quindi cercando di applicare gli stessi principi e le stesse logiche che i grandi gestori applicano quando devono gestire i loro portafogli. E quindi di fatto, come potete vedere, i cinque bullet point, cercando di mettere a fuoco principalmente questi cinque grandi punti. Da primo punto è una focalizzazione fortissima sui fondamentali macroeconomici e quindi l'idea che noi abbiamo è che per poter avere una visione di medio e lungo termine è quella che la macroeconomia, l'economia in genere e i fondamentali siano la chiave di lettura. Il rendimento, e questa suona banale forse per molti di voi però è una gran verità, il rendimento viaggia soprattutto attraverso la gestione del rischio e quindi riuscire a lavorare sulle due parti di questa bilancia è stato il secondo punto cardine. Quando si parla di investimenti e non di speculazione o di trading, l'orizzonte temporale fa una grandissima differenza, altro punto fondante che abbiamo sempre sostenuto dal giorno 1 della nascita della società. Abbiamo sempre considerato che la diversificazione sia la chiave fondamentale per costruire dei portafogli che possano essere resilienti nel tempo e quindi non tanto la ricerca di un alfa specifico su un unico titolo, su un unico segmento, quanto più una costruzione di un portafoglio armonico e organico e molto diversificato. E per ultima, che forse dovrebbe essere alla base di tutto quanto, se c'è una cosa che è prevedibile quando si fa asset allocation in generale e si investono i soldi, sono le commissioni e i costi. E quindi, mentre le performance sono lì, che devono essere combattute e tirate fuori ogni giorno, se c'è una voce sicura che ogni giorno impatta sul ritorno dei vostri investimenti, sono i costi. Per cui, un occhio fondamentale a quella parte lì era centrale. Ecco, sulla base di questi principi, di fatto, siamo partiti e abbiamo costruito quella che è la strategia di investimento. E ancora prima della strategia di investimento abbiamo incominciato a lavorare sul tema della profilazione del cliente e quindi più in generale, diciamo così, su come siamo riusciti a individuare l'individuazione del profilo per i nostri clienti. Su questa frase passo la palla a Vincenzo, che vi racconterà dapprima il tema del profilo di investitore e poi Roberto entrerà più nel merito invece della asset allocation. Alla fine della sessione avremo una serie di domande e risposte, nel frattempo la chat è comunque aperta e potete comunque scriverci le vostre domande e conto di vedervi poi alla fine dell'intervento. Buon ascolto a tutti. Grazie mille Paolo, buonasera a tutti, io sono Vincenzo Cuscito, faccio parte del team di consulenza di Manifarm. Con diversi di voi molto probabilmente sarà già capitato, ecco, magari in diverse occasioni di esserci sentite al telefono e vi do anch'io il benvenuto. Allora, diciamo che in questo appuntamento, ecco, come ci ha detto da Paolo, ci interessava, ecco, approfondire un po' quella che è la nostra proposta di investimento e quella che è la nostra strategia, poi, di investimento nella gestione dei portafogli. Io volevo focalizzarmi, ecco, su come andiamo a suggerirvi, ecco, sia in fase iniziale che poi nel corso del tempo, quelli che sono i portafogli più adeguati ed appropriati a ciascuno di voi, e come andiamo a strutturare un piano di investimento nel corso del tempo. Diciamo che qui in Manifarm abbiamo praticamente come se avessimo due team, ok, che curano la proposta di investimento, due team che poi portano ad arrivare ad una soluzione integrata. Questo riteniamo che sia un qualcosa di particolare, diremmo, direi quasi di unico, ecco, avere queste due parti, diciamo così, integrate e che insieme portano ad una proposta. Allora, partiamo sempre dal lato, dall'aspetto, ecco, che caratterizza, diciamo così, un po' più la consulenza, no? Cioè, andare a capire quelle che sono le caratteristiche di ciascun cliente e andare a delineare e definire il profilo di investitore di ciascuno di voi. Qua già vedete elencate su questa slide l'adeguatezza, la tolleranza al rischio, le esperienze e la competenza, poi le andremo a vedere un po' più nel dettaglio, ecco, nella slide successiva. Parallelamente a noi, della consulenza, c'è il comitato investimenti, che si occupa insieme al team di asset allocation di quello che è tutto il processo di investimento, cioè la definizione dei portafogli, l'asset allocation strategica, che è quella su cui si basano tutti i portafogli, e in aggiunta poi l'asset allocation tattica. L'asset allocation tattica riguarda fondamentalmente i nostri, li conoscerete ormai tutti, i nostri ribilanciamenti, quindi le operazioni tattiche, appunto, che vengono eseguite di fianco, ecco, all'asset allocation strategica. Sono delle operazioni che avvengono circa tre, quattro volte all'anno, ne avete vista una molto di recente, piuttosto che anche qualcuna molto, più di una a stretto giro, magari anche, ad esempio, nel marzo scorso. Arriviamo anche alla selezione degli strumenti. Sapete tutti che lavoriamo, che nei portafogli inseriamo principalmente, anzi, esclusivamente, etf. E nella selezione degli strumenti, anche, come vi dirà anche magari Roberto, rientrano tanti aspetti, come ad esempio la valutazione delle caratteristiche, il TER, lo spread BDASC, l'aderenza, ecco, all'indice, ecco, di ciascun etf. Mettiamo insieme questi due aspetti e si arriva, ecco, a un'allocazione, una proposta proprio costruita sull'esigenza dell'investitore. Perché dicevo prima che riteniamo unica, diciamo così, questo tipo di proposta? Perché magari se confrontati con i gestori, ecco, gli intermediari tradizionali, solitamente ci si trova di fronte alla rete, quindi i promotori, piuttosto che i consulenti, che hanno i loro obiettivi e poi anche, appunto, al team di gestione, che magari è completamente scollegato, ecco, dalla rete, che a sua volta ha degli obiettivi che magari sono, appunto, battere un determinato benchmark costruito in determinate maniere, ecco, ma raramente si arriva ad una proposta completamente integrata. A questo punto direi che passiamo, ecco, a vedere un po' più nel dettaglio come valutiamo il profilo di investitore. Come tutti quanti sapete, insomma, succede da noi Manifarmo, ma succede anche per gli investimenti bancari tradizionali, il punto di partenza, ecco, per stilare il profilo dell'investitore è il questioneromifido. Ognuno di voi risponde a determinate domande. Questo ci porta, ecco, a definire in particolare la tolleranza al rischio e l'esperienza finanziaria di ciascun investitore. A cosa serve questo? Serve per cercare di determinare che livello di volatilità è in grado di sopportare ciascun investitore. Legato poi anche al patrimonio e anche appunto alla motivazione per cui il questioneromifido va a porre delle domande ben precise sulla situazione finanziaria, quindi di patrimonio, ma anche di reddito, ecco. È fondamentale analizzare queste informazioni per capire anche quale può essere la perdita massima stimata per ciascun portafoglio che viene assietto al cliente, quella che ciascun cliente può sopportare. L'ultimo, ma non meno importante, anzi forse il più importante, è l'obiettivo dell'investimento, che si ricollega anche ovviamente al tempo, perché l'orizzonte temporale, come spesso diciamo, è la discriminante principale, perché chiaramente un orizzonte temporale più lungo può portare ad accollarsi magari un po' di rischio in più. Un orizzonte temporale più breve obbliga necessariamente ad abbassare quel livello di volatilità di cui parlavamo prima. Come andiamo poi a valutarlo appunto il profilo? In supporto chiaramente al team di consulenza, ovviamente, c'è anche l'algoritmo. A noi piace definirci un gestore, tra virgolette, ibrido, quindi con una componente robotica e una componente umana. L'algoritmo va a pesare tutte queste caratteristiche, tutti questi aspetti e va a stilare appunto il profilo dell'investitore. Nel dettaglio poi, come arriviamo al portafoglio? Siamo partiti dal profilo del cliente. Qui faccio anche, visto che prima citavo appunto anche l'importanza dell'orizzonte temporale, tutti quanti abbiamo, come molti di voi, abbiamo vissuto insieme l'esperienza del marzo scorso del Covid. Anche lì abbiamo visto come oscillazioni di prezzo e perdite tollerabili diventano degli elementi fondamentali e di conseguenza anche il tempo, perché chi ha avuto, aveva un orizzonte più lungo, chiaramente ha potuto mantenere l'investimento. Abbiamo visto poi in che modo i mercati hanno reagito dopo i fortissimi scossoni appunto di un anno fa. Quindi partiamo dal profilo del cliente, quindi le oscillazioni di prezzo, quindi la volatilità che ciascuno può accollarsi e quali sono le perdite tollerabili. Se andiamo ad unire questo con l'universo investibile, quindi andiamo un po' più sul tecnico, abbiamo tutte le varie asset class, azionario, obbligazionario, quindi qua abbiamo citato i bond governativi, piuttosto che i corporate bond, le materie prime, che anche loro hanno un determinato profilo di rischio e di rendimento. Le andiamo a mettere insieme e come vedete anche dal grafico e anche dai colori che aiutano un po' nel capire i rapporti che ci sono, come ben sapete tutte le asset class hanno una volatilità, ovviamente un livello di volatilità e delle prospettive di guadagno piuttosto che di perdita. Anche la volatilità è direttamente collegata però alle oscillazioni di prezzo che ciascuno di voi, ciascun investitore può sopportare e lì facciamo principalmente riferimento al patrimonio finanziario del cliente, perché chiaramente più alto è il patrimonio finanziario, più si può accettare ovviamente volatilità su quella quota di patrimonio che si fa ad investire. Mentre per quanto riguarda le perdite tollerabili facciamo riferimento magari anche al reddito, perché una persona che ha un reddito che gli permette di vivere e di far fronte a tutte le necessità della vita quotidiana chiaramente può anche sopportare delle perdite maggiori. Un po' più sul tecnico chiaramente quindi oscillazioni di prezzo la colleghiamo alla volatilità, le perdite tollerabili le colleghiamo al valore a rischio, cioè quella che può essere stimata come una perdita massima mensile nel 95% dei casi. Questi due dati chiaramente le mettiamo in relazione e poi con riferimento all'universo investibile andiamo a valutare anche quelle che possono essere i potenziali rendimenti positivi o negativi, quindi possiamo dire anche le performance che ci portano poi a l'assegnazione del portafoglio più adeguato ed appropriato per ciascun cliente. Ricordiamo anche che volatilità e valore a rischio rientrano anche nel contratto chiaramente, perché ciascuno dei nostri portafogli si pone un limite massimo di volatilità e di valore a rischio. Detto ciò quindi, questo è ciò che ci porta a i portafogli che adesso, ne approfitto per cedere, ecco la parola Roberto, che è il nostro portafoglio manager, andrà ecco a spiegarvi più nel dettaglio e andrà ad esplorare facendo riferimento poi alla strategia vera e propria di investimento. Perfetto. Buonasera a tutti, grazie mille Vincenzo. Sì, l'idea del portafoglio come il punto di incontro tra il vostro profilo, il profilo di chi investe con noi e quanto è disponibile sui mercati finanziari da essere acquistato, secondo me è l'ideale per affrontare la discussione riguardo a come noi costruiamo i portafogli. Perché, come anche diceva Vincenzo all'inizio, noi abbiamo un processo che è integrato, quindi una vista sul cliente che va dalle sue preferenze alle sue esigenze, alle sue possibilità sia in termini psicologici che anche finanziari di perdita e quindi combinando le asset class che sono disponibili sul mercato in maniera diversa si possono ottenere profili di rischio diversi quindi ad esempio in questo caso, questi sono casi puramente rappresentativi ma per darvi un'idea, aumentando la percentuale del portafoglio investito in bond governativi dei pesi sviluppati, liquidità, bond societari ad alta qualità, quindi investment grade quindi tutta la parte, lo spettro basso dell'asset class in termini di rischio e anche di conseguenza di rendimento si può ottenere un portafoglio che uscilla da un meno 10 a un po' 20 e che nello spettro di rischio che noi abbiamo ritenuto i doni nel corso degli anni per clienti sia al dettaglio ma anche istituzionali comunque caratterizzati da un orizzonte di investimento dal medio-lungo termine notiamo che ci si posiziona verso una parte un po' medio-bassa dello spettro di rischio mentre al contrario aumentando la percentuale del portafoglio investita in azionario pesi sviluppati, emergenti, materie prima come notate la differenza rispetto a prima si costruisce un asset allocation che è invece più aggressiva quindi che uscilla non più da meno 10 a più 20 ma da meno 30 a più 35 nel corso degli anni anche questo è puramente didattico come scopo ma si va quindi a costruire un asset allocation che ha questo tipo di volatilità qua quindi le vostre preferenze, le vostre indicazioni le vostre possibilità economiche e psicologiche e strumenti finanziari combinate si danno, confluiscono in questi nei portafogli che rispondono quindi alle diverse esigenze più o meno rischiose e più o meno redditizie a seconda quindi di quello che ci avete detto ovviamente queste asset allocation sono il punto finale di quel processo che vogliamo spiegarvi oggi di cui riceverete anche i dettagli tramite documentazione in seguito e su cui vi invito sempre a confrontarvi con il vostro consulente a farci arrivare le domande le vostre domande arrivano al team di asset allocation e siamo sempre pronti a rispondere la strategia di investimento cosa intendiamo noi per questo concetto che può essere astratto è sostanzialmente la declinazione in termini pratici di uno quindi quello che crediamo quindi di cui vi ha già parlato Paolo all'inizio della presentazione e due quindi come effettivamente implementiamo questi nostri insomma queste nostre proposizioni queste nostre blocchi fondamentali anche mentali su come affrontare i mercati finanziari quindi una filosofia i mercati sono efficienti nel lungo termine insomma a lungo termine è nostro alleato il futuro non è prevedibile quindi è necessario incorporare l'incertezza all'interno dei nostri processi costi contenuti movimenti limitati focus macroeconomico questa è la filosofia Monefa il processo di investimento è quello che andrò a spiegare adesso che quindi insomma poi tutte quelle operazioni effettive che noi mettiamo in fila in una catena di montaggio per creare i portafogli che vi ho mostrato prima come esempio ma che quindi come abbiamo visto si legano al vostro profilo MIFI dalle vostre obiettive di investimento quindi anche qui andremo ad analizzare l'asset allocation strategica quindi quella parte dell'asset allocation che si focalizza più sul lungo termine e che insomma i clienti o chi ti segue da più tempo avrà mai imparato a conoscere perché ogni anno all'inizio di ogni anno nei primi mesi ve la presentiamo con le nostre anche prospettive di medio e lungo termine sui mercati finanziari vi invito anche per chi non abbia mai assistito ad andare sui nostri canali e a seguire quell'evento lì che è stato registrato quest'anno in quanto si è tenuto virtualmente ed è molto interessante per capire noi come vediamo i mercati per il 2021 il 2022 l'anno prossimo e in là e poi c'è quella parte più tattica che invece si focalizza sul cercare di gestire le allocazioni nel medio breve termine quindi con un'eroggiante temporale molto diverso un anno o meno e che si focalizza su cambiamenti dell'allergia macroeconomica accelerazione decelerazione molto più sul sentiment degli operatori flussi posizionamento la leva degli operatori e sulle variazioni delle valutazioni quindi tassi di interesse price earnings rapporto prezzo utili o prezzo vendite quindi una parte più a lungo termine e una parte più a breve termine questo è il flusso di lavoro nella sua diciamo efficacia semplicità si parte dal lato sinistro con le valutazioni di mercato e le variabili di mercato quindi i numeri duri e crudi che ci arrivano dal mercato in un preciso istante possono essere numeri sulla valutazione serie storiche sul livello dei prezzi sul livello del debito su grandezze macroeconomiche come possono essere il PIL l'inflazione la produzione industriale quindi una dimensione esogena al team di asset allocation che ci arriva che noi riceviamo come un'antenna riceviamo questa questa serie di numeri dai quali insomma distilliamo i tre ingredienti fondamentali i rendimenti attesi la volatilità attesa e come questi rendimenti attesi si possono distribuire nel corso dell'orizzonte temporale li vedremo tra poco più nel dettaglio perché sono importantissimi da capire discutiamo poi insomma per l'asset allocation strategica una volta all'anno per l'asset allocation tattica una volta al mese col comitato investimenti su questi tre insomma su come l'asset allocation team sta in questo momento che numeri sta posizionando su questi tre ingredienti quindi come stiamo vedendo i rendimenti attesi la volatilità il rischio di incertezza sulle varie asset class su cui noi investiamo una volta questi numeri vengono rivisti dal comitato investimenti l'asset allocation poi team non si limita a dire ok ti aspettiamo che l'azionario americano performi in un determinato modo nel corso dei prossimi 12 mesi ma dobbiamo anche proporre uno schema di pesi quindi un portafoglio e questo è venuto fatto tramite un processo prevalentemente matematico che vedremo anche questo dopo nel dettaglio che si chiama ottimizzazione poi robusta vi spiegherò il perché della parola robusta anche qui sui pesi il comitato investimento una volta al mese dibatte sullo scostamento dei pesi attuali perché come si parla di una set allocation attuale che è quella che vedete sulla piattaforma e poi una volta fatti i ragionamenti implementati anche in maniera matematica si vede una set allocation che potrebbe risultare in seguito a determinate cambio di prospettive e quindi il comitato investimenti discute anche su quella parte là e si arriva infine ai portafogli strategici che sono dei portafogli che vi presentiamo all'inizio di ogni anno di nuovo ribadisco l'invito a rivedervi l'evento di marzo di quest'anno se avete qualsiasi dubbio o domanda ci arrivano rivolgetevi al vostro consulente o scrivetesi le vediamo e siamo sempre pronti di rispondervi ho parlato di tre ingredienti chiave che secondo me abbiamo cercato non è facile abbiamo cercato di esemplificarli in questa slide ricapitoliamo rendimenti attesi rischio atteso e incertezza allora rendimento atteso è insomma quanto noi ci pensiamo che una determinata asset class possa performare lungo l'orizzonte temporale di investimento che stiamo proiettando quindi su queste linee sono puramente didattiche però si tratta data la storia recente o una storia lunga secondo poi dei dati di input tracciare un po' il sentiero medio che ci aspettiamo che una determinata asset class possa performare è fatta principalmente partendo da fattori macroeconomici o fondamentali societari utilizzando dei link che noi chiamiamo funzioni di prezzo ad esempio per i bond insomma per tracciare il percorso che possono fare i bond uno moltiplica la variazione stimata sui tassi di interesse per la duration quindi per la scala diciamo un concetto simile alla maturity quindi quando scadono questi bond per ottenere quindi poi una variazione percentuale relativa allo strumento obbligazionario e quindi fattori macro funzioni di prezzo proiezioni di rendimenti però insomma i portafogli come diceva prima Vincenzo e come il concetto su cui abbiamo impostato all'inizio di questa conversazione è il rischio e anche il rischio è importantissimo quindi la volatilità le oscillazioni e la perdita che si traduce a livello matematico a livello teorico che oscillazioni può avere un asset class nel corso dell'orizzonte temporale quindi che spettro di possibilità può avere questo asset class nel corso dei prossimi 5-10 anni a seconda di cosa stiamo prevedendo e quindi questo è un processo molto più quantitativo rispetto a rendimenti attesi perché insomma non è che si può dibattere sulla volatilità perché è un concetto che non è facilissimo da comprendere in numeri e quindi si basa sulle serie storiche su modelli quantitativi che cercano di estrapolare da queste serie storiche il futuro e da questo si guarda volatilità e correlazioni implicite a queste serie storiche quindi il rischio ha a che fare con le oscillazioni infine l'ingrediente terzo ingrediente che forse è meno intuitivo ma è importantissimo è l'incertezza quanto margine di errore noi consideriamo intorno alle nostre stime quindi dato che noi ci aspettiamo l'esempio sull'azionario secondo me è facile quindi ci aspettiamo che l'azionario americano performi 5% all'anno per i prossimi 10 anni diciamo tramite il rischio diciamo che ogni anno questo asset class può oscillare dal meno 30 al più 30% questo è il rischio e l'incertezza ci fa dire invece ok noi abbiamo detto 5% dopo 10 anni però potrebbe in questi 10 anni il rendimento medio essere dallo 0 al 10% quindi è una banda di incertezza sul rendimento atteso quindi è legato al rischio però è diverso perché un conto è dire l'azionario americano ogni anno può fare meno 30 più 30 perfettamente condivisibile i numeri un conto è dire farò in media ogni anno meno 30% questo è assolutamente uno scenario inverosimile e quindi il rischio ha a che fare con l'oscillazione periodo per periodo l'incertezza ha a che fare invece con l'errore di previsione che noi possiamo mettere quindi sul centro del cono che vedete qua mentre l'utilità è sull'ampiezza del cono quindi questi sono i tre ingredienti principali che vengono digeriti in questo processo di ottimizzazione robusta ottimizzazione è l'implementazione matematica della domanda quindi dato che ho queste asset class che si muovono in questo modo dato che questo cliente questa linea di portafoglio ha bisogno di questo rischio qual è la combinazione di questi asset class che mi massimizza il rischio rendimento quindi qua l'ottimizzazione è la risposta a questa domanda quindi prende input di mercato e li traduce in asset allocation considerando quindi dei vincoli esterni come le preferenze dei clienti robusto perché perché come vedete da questo grafico viene fatto per diversi tipi di scenario qua abbiamo n scenari di correlazioni ropi e volatilità ogni scenario insomma corpora diverse assunzioni su quelle che possono essere le oscillazioni dell'asset class e le correlazioni e per ognuno di questi asset class deriva da un asset allocation che è ideale per quel tipo di scenario lì quindi l'asset allocation finale è determinata come media di una serie di asset allocation su vari scenari la ricerca accademica noi utilizziamo questo metodo perché comunque la ricerca accademica ha mostrato nel corso degli anni che questo tipo di asset allocation è più efficace rispetto a una asset allocation standard come potrebbe essere quello di focalizzarsi solo sullo scenario medio e produrre un asset allocation quindi robusta perché va a considerare diverse scenari quindi questo è un po' il cuore matematico che tornando al flusso che vedevamo prima precede insomma l'ultimo dibattito del comitato investimenti che va poi a produrre le asset allocation strategiche le asset allocation strategiche anche qui per chi si conosce ormai questo concetto è chiaro però non sono quelle che i nostri clienti trovano sulla disposizione sulla piattaforma perché poi abbiamo detto che l'asset allocation strategica si focalizza su dieci anni nel frattempo ci possono essere filazioni sulle varie asset class che richiedono delle azioni correttive sui portafogli e quindi abbiamo anche qui in processo nel corso dell'anno che se la asset allocation strategica avviene una volta l'anno quella tattica ogni mese ogni settimana noi discutiamo su come siamo posizionati su come si stanno muovendo i mercati e quando decidiamo che è un momento di agire vedrete i ribilanciamenti i clienti ormai li conoscono chi non è nostro cliente e lo vuole diventare lo vedrà e quindi produciamo dei portafogli che sono magari leggermente diversi da quelli strategici sono più o sotto pesati di rischio più o meno lunghi nella scadenza media degli obbligazioni in portafoglio e quindi permettono di aggiustare questa asset allocation sulla base delle fluttuazioni di mercato che ci troviamo ad affrontare ogni giorno quindi l'asset allocation strategica ci dà un po' la bussola ci dice per un portafoglio di rischio idoneo ai clienti che rientrano nel bucket set questo tipo di mix di asset class è idoneo nel lungo termine quindi ci dà la bussola e ci possiamo aspettare questo rischio e rendimento che poi è il cono che voi vedrete nella fase di creazione di portafoglio il portafoglio tattico quello che poi viene comprato dal cliente su cui si investe è questo portafoglio strategico tenendo conto delle oscillazioni di mercato e anche tenendo conto in quale scenario siamo ricordando l'ottimizzazione robusta abbiamo diversi scenari possiamo essere ogni mese in uno scenario diverso e ci andiamo a ricordare cosa ci aveva detto la strategica per quello scenario lì dove siamo adesso i nostri input sono coerenti con quello scenario lì oppure no andiamo a produrre il portafoglio che viene poi effettivamente venduto quindi è chiaro evidente che la set allocation tattica è diversa dalla strategica non tanto nel modus operandi nel come si produce come si sviluppa il processo di produzione dei portafogli ma quindi rendimenti rischio incertezza ci sono e sono ingredienti essenziali però è diversa in quello per cui si sforza di prevedere e quindi di aggiustare i portafogli abbiamo la set allocation strategica chi si muove su un orizzonte di lungo termine quindi dicendo su dieci anni posso aspettarmi che questa set class in esame abbia un rendimento che può andare dallo zero al dieci per cento la set allocation tattica invece di si mi trovo a fronteggiare gli investimenti in una set class che può oscillare dal meno 40 più 60 dipende anche dal periodo storico in base a determinati fattori che noi ogni giorno pensiamo e cerchiamo di riflettere e quindi si trova a fronteggiare quindi dobbiamo aggiustare i portafogli in un determinato modo quindi queste due differenze la set allocation strategica media di lungo termine ci dice cosa possiamo aspettarsi di lungo termine la tattica come dobbiamo aggiustare queste aspettative sulla base di quello che sta succedendo quindi è interessante anche come gli stessi driver gli stessi fattori che guidano il rischio rendimento dell'asset class cambino a seconda che noi stiamo usando per prevedere i rendimenti a breve o i rendimenti a medio lungo termine quindi abbiamo visto che sul medio termine le valutazioni la variazione delle valutazioni ha un impatto enorme questo ad esempio sulla setta class azionaria sviluppata degli ultimi 25 anni ci fa vedere come anno dopo anno i rendimenti annuali siano decisi dal in termini di volatilità soprattutto dalle valutazioni fondamentali si sono importanti nel 2009 abbiamo avuto 2008-2009 un crollo degli utili e quindi la parte gialla fondamentale è negativa ma le valutazioni poi erano invece salite perché c'era stata la ripresa dopo il 2009 una dinamica simile a quella del 2020 però il punto qua è che le fondamentali valutazioni si comportano in un determinato modo per l'asset allocation tattica e in un altro modo per l'asset allocation strategica invece che va a focalizzarsi come vi dicevo io su quella media di lungo termine quel range di rendimenti che va da meno 5 a più 10% ma poi dipende dal periodo e vedrete che invece vedete che invece su questo orizzonte temporale l'impatto dei fattori chiave nella determinazione dei rendimenti è più stabile e soprattutto contano molto di più invece l'andamento dei fondamentali quindi politica fiscale monetaria fondamentali economiche sono importanti sia per la tattica che per la strategica magari per perché magari è un po' più tecnico noi pensiamo che nel lungo termine conti la direzione dell'economia mentre invece per la tattica conta invece la variazione di questa direzione quindi se economia e inflazione stanno accelerando e accelerando però questa è una tecnicalità comunque l'importante concetto che vorrei passarvi con questa presentazione sul nostro strategico di investimento è che gli stessi input sono piegati a scopi diversi a seconda che ci stiamo sforzando di prevedere a un anno o a 10 anni però entrambi fanno parte di un processo di investimento strutturato coerente con la nostra filosofia e che porta quindi a definire i portafogli che voi trovate sulla piattaforma quindi come vi dicevo prima voi ci vedete in azione durante i bilanciamenti quindi questo è il culmine della nostra iterazione come asset allocation con voi clienti sotto c'è nella parte sommersa c'è comunque tutta una serie di processi di paletti di controllo di tecnologia che abbiamo messo assieme nel corso degli anni per garantire che questi ribalanzamenti badano nelle direzioni che speriamo e che riteniamo giusti quindi abbiamo asset allocation strategica la parte più quantitativa aspettativa di lungo termine nella parte bassa abbiamo tutta la parte più di routine quindi con il monitoraggio del rischio dei mercati del posizionamento tutto tramite tecnologia interna abbiamo asset allocation tattica unitamente al comitato investimento e poi abbiamo la parte di ribalanzamenti quindi i ribalanzamenti sono insomma il frutto di uno sforzo che dura tutto l'anno e che si muove settimana dopo settimana verso quella direzione lì quindi tornando a quanto avevamo detto all'inizio Money Farm offre la possibilità ai clienti di accedere a un processo di strategia di investimento che tiene conto delle loro preferenze noi il nostro insomma asset allocation poi per chi vuole ulteriori dettagli può chiederli bene valutata sulla base non siamo neutrali rispetto al risultato finanziario delle nostre linee per carità ma la nostra definizione di successo non è abbiamo dei benchmark di paletti di rischio la definizione di successo però dell'asset allocation team è risultato finanziario dei clienti quindi noi non seguiamo logiche di benchmark battere il benchmark di qualche basis point testire il rischio in un determinato modo la nostra definizione di successo è risultato finanziario dei clienti quindi dobbiamo costruire linee che siano vendute ai clienti giusti e performino nel modo giusto quindi questo secondo me è un po' il riassunto di quello che volevamo comunicarvi con questo evento ovviamente la presentazione sarà disponibile ci sarà ora una sezione di domande e risposte però qualsiasi dubbio anche più tecnico non è stata chiedere che mi arriveranno le domande arriveranno a me e al team con cui lavoro a Richard che è responsabile degli investimenti e arriveremo comunque a rispondervi ora apriamo le domande e risposte sì abbiamo sono di nuovo Vincenzo abbiamo ricevuto diverse diverse domande infatti vi ringraziamo della partecipazione attiva a qualcuna siamo riusciti a rispondere già via chat adesso appunto visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione direi di provare a rispondere a qualcun'altra che nel dettaglio io partirei da una domanda interessante che che ci è arrivata da Barbara ecco alla quale mi sentirei di rispondere anche io perché torna un po' al tema di cui parlavo della pianificazione degli obiettivi e degli orizzonti Barbara ci chiede quelle percentuali del capitale liquido opportuno prudente investire fa un esempio magari di una persona di 50 anni con un patrimonio di 600 mila euro che non lavora e non avrà una pensione quale profilo di rischio sarebbe più adeguato allora innanzitutto dobbiamo partire ovviamente dal capire qual è il profilo di investitore della cliente ecco e quindi capire che propensione al rischio ha ovviamente facendo riferimento a quanto detto prima il fatto che non lavori che non abbia un reddito farà sì che le proposte potenzialmente potranno essere più tendente alla prudenza proprio perché non sarebbe magari in grado su buona parte del patrimonio ecco di poter far fronte ecco a delle perdite delle perdite degli abbassamenti ecco del capitale rilevante diciamo che in linea di massima è opportuno capire che strategia utilizzare e quali strumenti utilizzare 600 mila euro chiaramente se fossero liquidi su un conto corrente sarebbe decisamente inefficiente perché ne abbiamo parlato anche in passato di come i rendimenti sui conti correnti siano nulli anche ormai sui conti deposito e su come non essere investiti qualora si abbia del tempo davanti porta a un depauvoramento del capitale anche legato all'inflazione oltre che ai mancati rendimenti diciamo che in linea di massima una soglia del 10% potremmo dire ecco del patrimonio da tenere liquida può essere razionale ok mentre poi sulla restante parte bisogna andare ad individuare quelli che sono gli obiettivi chiaramente se su 600 mila euro 250 mila euro magari possono essere destinati effettivamente a lungo termine magari più di 7 anni si potrà ragionare su una proposta un po' più aggressiva va comunque mantenuto una parte magari a volatilità più bassa andando magari anche a a rinunciare ecco a parte di rendimento in modo da avere del capitale da utilizzare ecco per far fronte ad eventuali esigenze di breve termine poi parlando di strumenti questa persona dice non avrò Barbara dice non avrò una pensione anche lì ci piace ricordare sempre ecco che ci sono degli strumenti indicati proprio per questo obiettivo come ad esempio il piano individuale pensionistico il PIP che abbiamo ecco anche tra i nostri tra i nostri strumenti che è una un'opzione ecco praticamente ormai quasi obbligatoria e fondamentale per tutti noi per andare ad integrare quella che sarà la nostra pensione futura quindi questo capitale lo si può organizzare su una piccola quota parte di liquidità per le esigenze di tutti i giorni a maggior ragione se non si ha un reddito una quota parte per far fronte ad esigenze di breve termine più legate a breve termine quindi con dei portafogli un po' meno volatili una parte a destinare a lungo termine con magari un minimo di rischio in più e affiancarci assolutamente magari con un ingresso mensile quindi con una sorta di piano d'accumulo il fondo pensione ecco per andare ad integrare poi quella che che sarà la rendita pensionistica poi ovviamente sia che Barbara sia nostra cliente piuttosto che non lo sia il nostro team di consulenza è a completa disposizione possiamo ci potete contattare via mail via chat via telefono si può fissare un appuntamento e si può andare ecco ad approfondire la situazione di ciascuno e siamo a completa disposizione e anzi vi invito a farlo successivamente direi che abbiamo risolvuto diverse domande in particolare cito quelle di Giovanni di Federico e di Emanuele che vanno un po' a chiederci ecco su l'andamento del mercato quello che ci si può attendere nel prossimo futuro quindi approfitterei ecco della presenza di Roberto a questo punto cerchiamo di rispondere ai nostri clienti Roberto dando un po' quelle che sono le nostre idee quella che può essere la nostra view quindi ti lascerei campo aperto in tal senso perfetto si può essere anche un'occasione per vedere il flusso mentale tattico sulla certification tattico al lavoro quindi per cercare di analizzare le prospettive di medio brevettere dell'asset class si parte dai fattori di rischio sottostanti che ad esempio su bond parliamo dei tassi di interesse abbiamo visto come ci sia stato un leggero ritrazzamento sui tassi di interesse noi la nostra visione come team di medio termine che i tassi di interesse torneranno leggermente a salire sulla scia quindi una crescita economica che sarà più lenta ma sarà comunque normalmente cioè quindi media più alta rispetto a quello che ci ha accompagnato dal 2015 al 2019 quindi tassi di interesse leggermente più alti meno alti rispetto a quello che vediamo il consenso quindi ci aspettiamo un po' più bassi rispetto al 2% anzi un range leggermente più bassa per i prossimi mesi e quindi di conseguenza il nostro avviso obbligazionario rimane abbastanza negativa questo ci porta agli altri fattori di rischio che possono essere che può essere l'azionario quindi parliamo dell'azionario sull'azionario le prospettive rimangono a livello direzionale nel lungo termine positive quindi come abbiamo detto anche a livello strategico la direzione dell'economia è positiva per i prossimi anni secondo noi per quanto riguarda invece l'accelerazione decelerazione dell'economia che invece come vi dicevo è più importante lato tattica non sarà sfuggito agli osservatori più attenti magari di voi che c'è stato negli ultimi settimane quella che viene chiamata un po' paura di una crescita che sta rallentando in inglese growth scare quindi quella paura per una crescita che sta un po' rallentando dopo un semestre esplosivo detto questo questa paura insomma sarà assorbita a livello di rischio sui mercati rimane ancora ancora basso l'inflazione secondo noi che è un altro dei motivi per cui questa paura qua lo scenario peggiore per gli investitori è quando l'inflazione sale accelera e la crescita sta decelerando quindi questo è un scenario peggiore nel breve termine che si trova a frontezzare quando si investe in quello scenario in questo quadrante qua l'unica cosa che può funzionare è l'oro secondo noi come copertura rispetto alle perdite quindi non siamo comunque ancora secondo noi la probabilità di questo scenario rimane ancora bassa ci troveremo ad affrontare uno scenario un po' di di crescita in calo rispetto al primo semestre per motivi naturali e l'inflazione comunque anche questa sarà stabile leggermente in calo rispetto ai numeri che abbiamo visto e questo ci porta a considerare un asset allocation per il medio e breve termine comunque rimasta esposta sull'azionario perché l'alternativa come vi dicevo prima al lato obbligazionario rimane molto limitata le prospettive sono risicate occorrerà comunque scegliere tra value e growth quale delle due e quindi questo è un po' l'intervallo su cui ci stiamo interrogando come team sia a livello di cometato che a livello di asset allocation quindi una view sull'azionario che rimane comunque positiva insomma sarà necessario rivedere un attimo la scelta che abbiamo fatto a novembre dell'anno scorso su questi titoli value che hanno preso molto bene o comunque sul riaggiustare un po' l'esposizione ai Stati Uniti a livello azionario però questi sono un po' i temi che stiamo dibattendo e come stiamo vedendo i mercati questo quindi è un po' la nostra view poi possiamo organizzare un contenuto specifico sulla nostra view di mercato e lo facciamo ogni mese Bob vogliamo ho visto che ci sono un po' di domande sul tema cripto che diciamo sono domande dei nostri investitori ma sono anche domande che ci assillano quotidianamente quindi vogliamo dargli vogliamo dare un minimo un quadro dentro il quale ci stiamo muovendo quello che stiamo pensando allora quando si si approzza alle cripto al lato money farm ci sono diversi livelli decisionali quindi c'è il lato la società vuole esporsi su questo tema l'asset allocation pensa che sia idoneo incorporarlo nei portafogli è uno strumento investibile oppure no quindi cerchiamo di essere il più diciamo atei possibile che poi è anche un tema molto caldo che incorpora molte visioni anche radicalmente diverse per il momento non lo riteniamo uno strumento adatto ad essere inserito nelle linee che già vendiamo questo come asset allocation possiamo dirlo chiaramente è uno strumento che per livello di rischio rendimento anche per fondamentali tornando anche al processo è uno strumento che difficilmente può essere incastronato in questo processo qua perché ha delle caratteristiche di rischio che cambiano radicalmente vediamo come adesso ad esempio la correlazione con gli asset class tradizionalisti aumentando per alcune criptovalute per altri invece rimane estremamente randomico il processo è uno strumento per cui è difficile prezzare è uno strumento per cui è difficile metterlo in un contesto di portafoglio e quindi per il momento non ce la sentiamo di consigliare di inserirlo nei portafogli come dato il loro universo investibile ma poi abbiamo visto molti altri operatori iniziare ad adottarlo a tradarlo a scambiarlo come molti hedge fund hanno iniziato anche a disporsi c'è stato anche recentemente lo sforzo di dare una view macro economica dietro il bitcoin come protezione dall'inflazione a cui noi per ora non crediamo tanto è molto speculativo come asset class quindi noi al momento non diciamo investito non investite possiamo fare un approfondimento vi invito anche a guardare gli approfondimenti che abbiamo fatto in materia non possiamo inserirli per come sono adesso nei portafogli attuali quindi questo assolutamente per il momento lo escludo poi se un giorno lanceremo una linea specifica sulle cripto questo poi è un'altra domanda e ci interroghiamo su alcune criptovalute al momento la liquidità inizia a essere abbastanza importante anche se poi viviamo ondate vediamo anche sugli NFT è un mondo molto ampio e veramente complesso che richiede competenze anche leggermente diverse da quelle dell'asset all'occhetto tradizionale e quindi dobbiamo anche cercare di costruirsi quel tipo di expertise direi direi perfetto è ben è ben riassunto noi abbiamo sforato i 45 minuti che ci eravamo proposti volevo chiudere io brevemente con un'ultima domanda un paio di domande che sono arrivate da Isabella da qualcun altro riguardo al mondo ISG agli investimenti sostenibili a quante donne lavorano in money farm così per dare un attimo un quadro di come siamo organizzati e quali sono le nostre aspettative beh allora cominciamo con il dato di fatto oggi money farm lavora circa il 25% delle persone che lavorano con noi sono delle ragazze sono donne lavorano tra Londra Cagliari e Milano tenete conto che noi su appunto su circa 120 persone ne abbiamo più della metà che si dedicano al mondo della tecnologia e vi posso garantire in prima persona che riuscire a trovare competenze skills e persone ragazze nel mondo della tecnologia della programmazione eccetera è una fatica improva e quindi già quello rende tutto molto complicato però ci crediamo molto così come crediamo in generale a tutti questi valori che oggi si 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 riassumono su questa sigla ISG ma che non sono soltanto legate al mondo degli investimenti ma sono legate a un certo modo di fare business attività impresa un certo set di valori insomma su cui noi abbiamo costruito questa azienda e continuiamo a portare avanti per quanto riguarda i prodotti come potete immaginare è sicuramente nell'agenda ne avevamo parlato già qualche tempo fa ci stiamo lavorando verosimilmente stiamo proprio cercando di capire quando potrà potrà esserci il lancio più facile che sia all'inizio dell'anno prossimo che non quest'anno in ogni caso non credo riusciremo a farlo per quest'anno in Italia però è di sicuro una delle priorità più più importanti a livello di gamma prodotti che abbiamo e quindi insomma abbiate ancora un po' di pazienza perché arriveranno anche questi Vincenzo Roberto direi che con questo possiamo possiamo ritenere concluso l'intervento Vincenzo se vuoi chiudere tu direi di sì ringrazio tutti quanti della partecipazione e vi dico solo appunto che appena chiuderemo se restate ancora collegati qualche secondo ci sarà un questionario di gradimento che per noi è molto importante e ci può aiutare a migliorare anche questi incontri cogliendo i vostri spunti quindi vi ringrazio ancora della partecipazione vi chiedo di partecipare al questionario grazie mille a tutti grazie buona salata grazie mille a tutti